bello a tutti ragazzi da sapo da daremoci qua su minecraft xbox one ragazzi benvenuti in un nuovo video del canale come sempre prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale ancora se avete fatto e mettere un bel mi piace per supportare la serie ma ragazzi iniziamo subito col botto guardate qua c'è venuto a trovare un nostro amico guardate qua buongiorno allora che c'è di bello questa potrebbe servirmi no perché c'è un quanto voglio questo neanche vogliono non c'è niente di interessante ciao amico non voglio niente ok ragazzi andiamo a dormire perché devo farvi vedere che ho fatto dei grossi mirurialmenti e ve l'avevo promesso nello scorso episodio che il prossimo episodio lo facevamo col botto ragazzi allora vi ho fatto è che cavolo che vuoi pure entrare no nove raggi me li farò bastare ma certo che sì ragazzi ve li faccio vi faccio vedere come ho nascosto come modificato diciamo anche l'ingresso adesso ragazzi praticamente non si vede assolutamente niente voi adesso guarderete rimanete estero e fatti forse questo circuito qua lo già lo sapevate ma io l'ho introdotto in più ho fatto ancora del mio meglio proprio ragazzi mi sono superato guardate quando il buco l'ho tappato e non c'è assolutamente niente quindi voi ragazzi adesso magicamente da questo buco qui adesso mi metto niente in mano vi farò vedere che praticamente facendo così posso aprire il mio passaggio segreto e ovviamente posso anche chiuderlo guardate qua da qui e posso chiuderlo anche da dentro è quello il bello praticamente basta che punto qui voi direte come cavolo fatto beh c'è il trucco e ve lo farò vedere subito allora praticamente e poi ve lo farò vedere anche magari più specifici ticata ticata allora per chiudere perché ho detto ragazzi però essendo qua ho detto mi dà un po fastidio di lasciare sempre aperto io vorrei che magari vado non giù di qua ma ho creato questa scalinata che mi porta alla leva come potete ben vedere adesso tutto chiuso allora per creare questo passaggio ragazzi dovete mettere il blocco sotto due blocchi sotto deve esserci un blocco in parte assolutamente e due scalini nella parte diciamo in questa parte qua vedete che il bordino nero del blocco quando vado nel buco qui sparisce quindi a posso cliccare su qualsiasi cosa c'è dietro quello mi fa cliccare sulla leva quindi mi fa aprire i pistoni quindi passaggio e ovviamente me li fa anche chiudere quindi ragazzi adesso vi faccio vedere che cosa ho fatto off the camera allora innanzitutto vabbè questi qua ce leviamo dall'ultimo video non sono andato avanti ho solo creato una stanza superiore sì non so se l'ho creata con voi no l'ho creata adesso non mi ricordo ultimo video ragazzi perché sto un po incasinato con la testa perché il cagnonino di mia mamma sta poco bene quindi ha preso una botta in testa forte caduto dalla macchina in corsa e ragazzi purtroppo non si sa se ce la farà è già da domenica notte che ricoverata in clinica è in una specie di semi coma e fino martedì non sapremo nulla ragazzi purtroppo è così quindi io adesso sto seguendo qua ma non abbandono lo stesso mio canale quindi ragazzi i contenuti ve li porterò sempre lo stesso perché l'importante essere sempre attivi ragazzi non volate mai perché è giusto così se uno si pone degli obiettivi prima o poi e deve comunque farli allora ragazzi andiamo su vi faccio della stanza che ho fatto e ho già redata adesso non state mi chiedere perché vabbè qua ci sono cinque manichini e quindi ho cremesso cinque letti quindi tecnicamente tappeti ne ho sapete quante che ne volete non chiedetemi perché posso dormire soltanto di notte e non chiedetemi perché cinque quindi ognuno ha il suo guardaroba e ognuno diciamo il suo letto quindi qua cinque persone cosa possono dormire serenamente poi visto che mi avanzava del poco slime e mi avanzava c'era in vena di fare circuiti con un circuito semplicissimo ragazzi in caso di emergenza tirare la leva mettiamo caso che uno mi riesce a seguire mettiamo caso che riescono a sfondare la porta che adesso è chiusa quindi mettiamo caso che riescano a trovare dove sono io mettiamo caso che riescono a introdursi nella stanza sotto delle armature e va bene ok noi in caso di emergenza ragazzi possiamo tappare le scale vedete adesso le scale sono perfettamente tappate solo da sopra e quindi mettiamo caso che loro nel tempo riescono anche ad evadere e beh ragazzi voi non ci crederete ma io mi sono preparato anche al peggio è il peggio ragazzi è un bunker dentro il bunker che solamente io ciò quindi quest'area 51 diciamo disastrosa diventerà un mega rifugio che praticamente da adesso non mi ricordo qual era il blocco ci deve essere bene se iniziamo così siamo già bene a questo è allora da qui praticamente ragazzi ho fatto la stessa cosa dell'ingresso principale per l'ultimo blocco qua ragazzi mi apre un'altra leva nascosta come potete vedere lo scalino eccolo qua che poi quando chiude si trasformerà vedete il pistone appiccicoso guardate adesso io chiudo e lo scalino si trasforma vedete quindi da qua riusciamo a comandare e beh ragazzi potete vedere che qui e i letti li ha fatto tutto in lana grigia perché ragazzi ne ho tantissima quindi tantissima quindi ragazzi qua adesso diciamo che loro riescono a entrare nella stanza sotto riescono diciamo a diciamo che poi da qua si chiude normalmente da qua e sparisce tutto diciamo che loro riescono ad entrare nella stanza sotto io riesco a bloccarli già con la mia mitica leva di emergenza qui in caso di emergenza tiriamo anche per andare a dormire tranquilli e mettiamo caso che ragazzi vedo che riescono a sfondare la scala beh cosa fare cosa fare ve lo dico subito praticamente si va qui si si apre questo portale segreto si richiude subito così nessuno vede niente e poi passato qui tutto in ossidiano estremamente resistente l'ossidiano ovviamente non si può spostare quei sticky piston però si tirano le leve si chiude la porta di ferro e si chiudono tutte e due pistone praticamente questo fa sopra e questo fa sotto non ho creato solo uno perché va bene così dai possiamo regolare quello che vogliamo quindi adesso ragazzi noi siamo in una camera proprio super mega sigillata tutta di ossidiana anti esplosione anti nucleare anti tutto ragazzi l'ossidiana non la distrugge niente e quindi diciamo che è un po come la bedrock diciamo però la bedrock non si può prendere quindi ne ho presa un poca ma ne avevo già tanto il piccone ha sofferto un po ma riparazione quindi diciamo ci sta ci sta beh ragazzi qua non c'è nient'altro che un letto che non posso dormire perché ancora giorno e qua ragazzi qua viene il bello qua praticamente cosa mi sono messo uno stack di ossidiana uno scudo che serve un tridente una balestra frecce arco carote d'oro mela d'oro mele incantata totem della non morte e adesso ragazzi tutte le posizioni che possiamo bere insieme sto qua sto corsa letto quei ragazzi io ce l'ho ormai da una vita lo metto qua questo lo spostiamo qua abbiamo una pozione di resistenza al fuoco che non si sa mai mettiamo caso che va a fuoco spaccano con la lava e tutto noi riusciamo mettiamo caso che mi friscono a fare comunque un buco mi buttano della lava io comunque con la pozione resistenza al fuoco posso stare tranquillamente 8 16 24 minuti nella lava quindi loro mi considererebbero morto in verità ragazzi io sono non morto cioè quindi sopravvivo un armatura di scorta perché non si sa mai con la spada e basta non è incantato niente l'ho fatta così con diamanti poi ragazzi pozione di rapidità perché certo ragazzi bisogna correre veloci cura salute istantanea forza salto e visione notturna quindi bevendo una di ogni queste pozioni più avendo la mela d'oro più avendo le carote d'oro che danno cibo più avendo tridente scudo ossidiana per crearsi un altro bunker dentro il bunker eccetera eccetera ragazzi più il totem ragazzi siamo proprio in un posto quasi diciamo è impossibile non riuscire a sopravvivere quasi impossibile vabbè diciamo che è quasi impossibile quindi ragazzi diciamo che il bunker dentro il bunker è qui adesso io apro tutto perché questo deve essere sempre aperto in caso di super emergenza e questo invece lo chiudiamo perfetto e questo lo apriamo quindi adesso ragazzi ne abbiamo cinque posti tranquilli e la notte non arriva io sono qua ma scommetto che appena dopo andiamo qui ragazzi e ti apriamo le porte e così vi faccio vedere ragazzi come creare il passaggio segreto perché dovrei avere tipo il passaggio segreto come creare diciamo la è che cavolo sono andato nell'acqua come creare ecco vedete adesso chiuso non si vede assolutamente niente quindi diciamo solo uno che mi vede potrebbe intuire che lì c'è qualcosa ma comunque diciamo che ci sta adesso vi faccio vedere ragazzi non sono mai atterrato però tra l'altro nel punto più alto è che sarà difficile è che pareva vabbè non sono alternato nel punto più alto però con un po di parkour ce la faccio andare qua in mezzo si ama son bloccato allora da qua non si va niente da fare aiuto la lava scappiamo e dottore ancora qua stai sempre quelle robe mi vende ok sta facendo un nuovo buio andiamo a prendere i blocchi subito vediamo se possiamo già andare a dormire certo così il mio spawn è qui interessa come mangiamo l'immortazione non c'ho la torta vabbè vabbè dai fa niente e vi faccio vedere come si fa quel passaggio segreto quindi ci prendiamo per comodità io prenderei degli si buongiorno magari questi scalini e ma dopo ce li ha quei blocchi no quindi diciamo che mi prendo questi qua che trattano sbagliato perché che cavolo sto facendo me ne bastano due poi prendiamo un po di legna di betulla che così facciamo tutto il di antico poi della una leva è una torcia redstone una torcia redstone no una lampada e dei blocchi si è della redstone penso che funzioni così beh vediamo casomai va bene casomai allora tecnicamente buongiorno dobbiamo funziona così praticamente facciamo finta che questo qua è il muro dietro quindi nella parte centrale potrei fatemi capire se io metto una leva ci manca la leva se io ci metto direttamente la leva lì si si accende non capisco è vediamo un po adesso vi faccio vedere abbiato solo un po di pazienza allora se io metto la leva qua centrale e l'accendo ok lei si accende perfetto così riuscite a capire se funziona ok quindi teoria dopo mettiamo 11 qua uno qui in parte e qua praticamente ci vanno gli scalini ci vanno rivolti verso di qua non proprio così ma momento verso di qua ok così ragazzi dovete avere questa situazione qua un angolo così non faccio vedere bene un angolo così è uno scalino così così praticamente riesce ad adattarsi al pezzo in parte quindi per accendere la luce dobbiamo mirare nell'angolo questo qua vedete che va via la selezione del blocco guardate il blocco l'ho selezionato se però vado lì vedete che sparisce c'è questo micro buco qua che praticamente se io adesso la luce spenta guardate spentissima non c'è nessun altro che può accenderla se io adesso vado vicino e vado nella parte a sinistra dove c'è il buco non qui perché dovete dividerla in quattro questa è la metà e questa all'altra metà quindi dovete andare nel quarto in alto a sinistra allora praticamente se andate qua trovate il punto giusto voi potete cliccare oltre vedete è la magicamente la lampada sia accesa adesso la spengo guardate bene nessun taglio nessun niente e guardate 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 quanto fa guardate 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 ed guardate, eccolo qua, opla, accesa, è rispenta, adesso vi farò una nota lunga, bla 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 bla, così, yahoo, tac ragazzi, accesa, quindi niente di più semplice, quindi come potete attivare una luce potete attivare qualsiasi circuito redstone che vi consente di fare quello che volete alla fine, e io l'ho creato, ne ho creato uno doppio addirittura, perché secondo me un doppio bunker ragazzi, messo così, veramente ci sta, veramente ragazzi, secondo me è una cosa spettacolare, un bunker nel bunker, poi trattato così ragazzi, secondo me, veramente proprio qua, andiamo proprio sul super mega sicuro e nessuno ci può fare niente, e quindi diciamo, va bene così, va bene ragazzi, io metto giù tutto, mettiamo giù questo, si buongiorno, no la redstone, perché il resto va da un'altra parte, la leva neanche, la leva va qua, e la redstone va di qua, ben fatta, qua sopra, ragazzi, quindi io finisco qua ragazzi, quindi spero che questo super mega bunker, il bunker nel bunker vi sia piaciuto, come sempre se questo video vi è piaciuto vi invito a mettere mi piace ragazzi, iscrivvi al canale, cosa siete fatto, e noi ragazzi, come sempre, ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti!